Avrebbero messo a segno centinaia di truffe, sgominata banda tra Palermo, Ficarazzi e Santa Flavia. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina una maxifrode fiscale da 9 milioni di euro. Protesta dell'Anci Sicilia, luci spente in 390 comuni siciliani. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Medianews, oggi è mercoledì 28 gennaio. Avrebbero messo a segno centinaia di truffe, spacciando patacche per orologi preziosi e utilizzando assegni falsi, sgominata banda di 5 truffatori tra Palermo, Ficarazzi e Santa Flavia. Hanno messo a segno centinaia di truffe, spacciando per preziosissimi orologi che in realtà erano patacche, inoltre acquistavano e rivendevano pezzi d'arte falsi usando assegni smarriti e riadattati. I carabinieri della compagnia di bagheria e della sezione di polizia giudiziaria presso la procura della Repubblica di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone ritenute responsabili a vario titolo e in concorso di una pluralità di reati per essersi associate, tra loro allo scopo di commettere più delitti di ricettazione di assegni, truffa e falso tramite la negoziazione di assegni di provenienza illecita. Tra questi numerosi titoli del Banco di Sicilia, provenienti dallo smarrimento di 5.000 stampe ed assegni ballerini o brasileiri, come vengono ironicamente definiti dagli indagati nel corso di una conversazione intercettata, ovvero tratti su conti correnti aperti da pressanome privi dei necessari fondi di copertura. I 5 truffatori a bordo di un'auto di lusso ben vestiti sono riusciti ad accumulare almeno 350.000 euro. Si tratta di Paolino Cavallaro, Domenico Siciliano, Attilio Di Stefano, Salvatore Storniolo e Antonino Ribaudo. I 5 prediligevano l'arte. In una galleria palermitana hanno acquistato 75 quadri con assegni fasulli per un valore complessivo di circa 100.000 euro. Gran parte dei dipinti, tra i quali una litografia di Guttuso, è stata sequestrata e restituita. Altro settore privilegiato era quello degli orologi di marche d'ingente valore, come ad esempio un Rolex Daytona in oro rosa, completo di scatola che ne simulasse l'autenticità. Scoperta dalla Guardia di Finanza di Messina una maxifrode fiscale da 9 milioni di euro nel settore dell'autotrasporto. I militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Palermo e di Messina hanno scoperto una maxifrode fiscale. Sequestrate disponibilità finanziarie ed immobili per un ammontare pari a circa 9 milioni di euro. Due le ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari. In manette Andrea Curro, amministratore della Curro Trasporti SRL, società messinese di trasporto di merci su strada, e il proprio consulente fiscale, il ragioniere Michele Nigrelli. I due sono accusati di essere gli ideatori di un articolato sistema di frode che ha visto, tra l'altro, la partecipazione attiva di altri sei soggetti. Nello specifico vengono contestati a vario titolo numerosi reati, quali l'associazione a delinquere, l'utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazioni infedele o messi versamenti IVA, occultamente distruzione di scritture contabile ed illecita somministrazione ed utilizzo di mano d'opera. L'inchiesta, chiamata Dark Track 2, prende le mosse dagli sviluppi di una precedente attività investigativa che già nel marzo 2012 aveva portata al sequestro di beni per un valore complessivo di 62 milioni di euro e di 5 cooperative di trasporto di merci su strada per aver emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di numerosi soggetti economici per un ammontare superiore a 120 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di scoprire non solo l'illecito utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ma anche l'interposizione fittizia di una società priva di qualsiasi struttura patrimoniale, organizzativa ed imprenditoriale, l'Europa Trasporti SRL, beneficiaria finale del sistema di frode. Tragica rapina la notte scorsa sulla tangenziale ovest di Catania, in territorio di Mister Bianco. Quattro giovani rapinatori hanno tentato una rapina in un'area di servizio Agip, ma sono stati bloccati da una pattuglia di scorta della polizia fuori servizio. Ne è scaturito un conflitto a fuoco. Uno dei malviventi di solo i 18 anni è morto, mentre un 15enne è rimasto ferito ed è stato ricoverato all'ospedale Vittorio Emanuele. Le indagini sono in corso. Cambiamo argomento. Manca la maggioranza all'Assemblea regionale siciliana. Il mutuo da 1 miliardo e 700 milioni torna in commissione. Non c'è la maggioranza in aula ed il mutuo di 1 miliardo e 700 milioni di euro è stato rispedito in commissione. Ad un anno di distanza si è ripetuto lo stesso scenario avvenuto con il precedente assessore all'economia Luca Bianchi che poi si dimise. Per l'attuale assessore Alessandro Baccei non è un buon segnale, ma dal punto di vista dell'iter, spiega, non dovrebbe cambiare molto. È già previsto una seduta nella commissione bilancio dove il DDL dovrebbe già approdare. Spero che già in settimana possa essere esitato da Sala d'Ercole. Di sicuro, prosegue, la Sicilia non fa una bella figura. Siamo l'ultima regione a non avere ancora approvato il mutuo e così lo Stato non può chiudere la procedura generale. Per gli esponenti della maggioranza il ritorno in commissione del DDL è un fatto marginale, ma le opposizioni vanno all'attacco di maggioranza e governo. Il mutuo, spiega il capogruppo del Movimento 5 Stelle, Valentina Zafarana, ora torna in commissione come volevamo. Le imprese vanno pagate, per carità, ma la politica dei debiti per pagare altri debiti porta solo allo sfacelo. Si avvino prima le riforme strutturali. Il capogruppo del cantiere popolare, Toto Cordaro, parla di ennesimo fallimento del Crocetta Terra e della sua maggioranza targata PD. Pernello, Musumeci, Bacce e Crocetta viaggiano su due strade diverse e la maggioranza, dice, era colpevolmente latitante. A questo punto l'opposizione è pronta a fare la sua parte e ad accompagnare il governatore sui tavoli romani, dove, evidente, non ha più alcuna autorevolezza. La procura di Siracusa ha chiesto al GIP del Tribunale l'archiviazione sul procedimento penale in merito alla realizzazione di una piscina nella villa dell'ex assessore regionale beni culturali Maria Rita Sgarlata. L'apertura dell'inchiesta su un presunto caso di abusivismo edilizio era costata le dimissioni all'esponente politico dall'aggiunta del presidente della regione, Rosario Crocetta, e la rimozione dall'incarico di sovrintendente di Siracusa di Beatrice Basile, poi reintegrata per effetto di una decisione del giudice del lavoro. Luci spente oggi in 390 comuni siciliani. Continua così la protesta del Lanci Sicilia contro i tagli previsti dal governo. Luci spente in 390 comuni della Sicilia, oggi fino alle 19.05. Continua così la protesta decisa dal Consiglio regionale dell'Anci Sicilia contro i tagli da parte del governo nazionale e regionale. In relazione alle diverse realtà territoriali, spiega Leluc Orlando, presidente di Anci Sicilia, i sindaci potranno autorizzare lo spegnimento delle luci nei palazzi municipali, nella piazza antistante il municipio oppure in qualunque parte della città ritenuta rappresentativa. L'importante è che i cittadini comprendano le ragioni della mobilitazione, nata con l'obiettivo di illustrare i motivi per cui i comuni non riescono ad assicurare i servizi essenziali. La protesta è stata pianificata anche alla luce delle recenti relazioni della Corte dei Conti, che in due diverse occasioni ha sottolineato la sproporzione dei tagli effettuati ai danni degli enti locali. L'iniziativa voluta dal Lanci Sicilia è partita allo scopo di corso 21 gennaio. I sindaci a scopo dimostrativo hanno collocato a mezz'asta le bandiere della regione siciliana. Il prossimo 9 febbraio invece in tutti i comuni dell'isola saranno convocati i consigli comunali aperti con la partecipazione di sindaci e giunte. Fecondazione eterologa, la prossima settimana il via anche in Sicilia, l'assessorato regionale alla salute ha stabilito le tariffe. In Sicilia sono già state fissate le tariffe per la fecondazione eterologa per le coppie con problemi di sterilità e costretta a ricorrere a donatori esterni per avere un figlio, ma gli ospedali non sono pronti a partire con la terapia, contrariamente alle strutture private che sono già preparate ad erogare il servizio. La fecondazione eterologa costerà tra 550 e 1481 euro, ma se il reddito anno supera i 50.000 euro la cifra sale a 4.000 euro. Fra meno di una settimana partirà ufficialmente la tecnica nei centri sanitari accreditati, che sono 12, e l'assessore regionale alla salute Lucia Borsellino è pronta a firmare il decreto per le tariffe. Il centro unico di prenotazione sarà allestito all'ospedale Cannizzaro di Catania. La Sicilia è tra le prime regioni d'Italia a fissare i ticket per la fecondazione eterologa. Sono circa 5.000 le coppie siciliane che ogni anno ricorrono ai trattamenti di fecondazione assistita, dei quali circa 2.000 vengono effettuati in altre regioni. In Sicilia operano 36 ente, di cui 7 pubblici e 29 privati. Quelli autorizzati, come detto prima, sono 12 in tutta l'isola, 4 pubblici e 8 privati, e sono quelli che in atto già effettuano l'omologa. Ancora a cronaca, tentano di rapinare un fortema, vengono arrestati da due agenti in borghese che li aspettavano fuori dal supermercato. E' accaduto a Palermo, in manette, due diciottenni. Erano convinti di aver studiato il colpo in ogni minimo dettaglio ed avevano anche atteso il momento giusto per agire dopo aver effettuato un breve sopralluogo, senza considerare però che nel frattempo qualcuno stava studiando le loro mosse. I carabinieri hanno arrestato due malviventi che avevano pianificato una rapina al supermercato Fortè di via Mario Orso Corbino, una traversa di via Oreto a Palermo. In manette sono finiti due diciottenni. Erano entrati incappucciati all'interno del market, ma neanche il tempo di impossessarsi dell'incasso, circa 400 euro, sono stati bloccati da quattro militari in borghese che si erano appostati all'esterno dell'esercizio commerciale. I due sono stati quindi bloccati e portati a piedi alla vicina caserma dei carabinieri. Le immagini e le testimonianze della rapina sono state raccolte e verranno confrontate con quelle dei colpi portati a segno nell'ultimo periodo sia al Fortè di via Corbino che a tutti gli altri supermercati dotati di sistema di videosorveglianza per verificare se i due siano autori di analoghi colpi. Raccolta dei rifiuti a bagheria, domani dovrebbe partire quella che l'amministrazione comunale ha definito la rivoluzione d'inverno. Il parere del consigliere dell'Udc, Filippo Tripoli. Da domani dovrebbe partire una nuova rivoluzione, la rivoluzione d'inverno, detta dall'amministrazione, dove ci dovrebbero essere 20 punti di raccolta e dove i cittadini bagheresi dovrebbero conferire i rifiuti. Io credo che sia purtroppo un'altra... Anche differenziandoli però. I rifiuti sì, anche differenziandoli. Io credo che ci ritroveremo di nuovo a un'altra involuzione. Prima c'è stata l'involuzione di agosto, dove non è partita la differenziata. Credo che domani non partiranno di nuovi punti di raccolta. Nel frattempo abbiamo un costo eccessivo del costo dei rifiuti, pari a 450 mila euro per... Diciamo questa cosa, si è andata avanti a forci... Cioè, si è, come dire, aggirato il problema affittando, così come era prima, pale, meccanica... Sì, ad oggi abbiamo già sette mezzi affittati a ditte esterne. So che l'amministrazione sta lavorando per una società per azioni. Con un onere di quanto? Ma il costo per adesso per l'appalto all'esterno dell'utilizzo di alcuni automezzi è pari a 450 mila euro. Per cui è aumentato... Un argomento superiore rispetto agli ultimi anni. Ma guardi, da gennaio a giugno l'affitto dei noli all'esterno era pari a 180 mila euro. Da giugno a dicembre siamo oltre 450 mila euro. Per cui il costo dei rifiuti è aumentato e continuerà ad aumentare. Per quanto riguarda la società per azioni che loro vogliono costituire, è una società alla quale noi ci opporremo in tutti i modi possibili coinvolgendo la cittadinanza. Perché questo... Diciamo qualche caratteristica di questa società per azioni. Avrà 150 dipendenti, avrà... Guardi, allora questa società per azioni dovrebbe avere, almeno così come loro hanno scritto, un consiglio di amministrazione che avrà un costo. 150 dipendenti che dovranno gestire il raccolto a smaltimento rifiuti. Dove lì ci saranno sicuramente logiche clientelari, perché il sindaco non vuole dare seguito all'accordo quadro stipulato alla Regione nel 2013 per la salvaguardia dei livelli occupazionali. E in più per un costo a carico dei cittadini notevoli. Quando, potendo appaltare il servizio all'esterno, avremmo risolto qualche problema. Riattivato oggi il riscaldamento nelle scuole di bagheria, l'amministrazione comunale era avvisando che i tempi relativi alla nuova gara per la gestione del riscaldamento avrebbero prorogato ancora oltre l'accensione dei termosifoni e corse in ripari con la decisione di prorogare il servizio alla ditta con la quale era scaduto il contratto. Nell'Emore, che il dirigente del settore lavori pubblici porterà a compimento tutti gli atti per la nuova gara, si potrà così garantire il servizio. Open Day al Terzo Circolo Pirandello di Bagheria, le interviste. Una scuola che accoglie moltissimo, una scuola che è di tutti, che non è fatta per ceti sociali, e quindi è di tutti. È una scuola attrezzatissima con laboratori, con un corpo docente molto professionale, in cui si lavora tantissimo, si applica una didattica laboratoriale, in cui i bambini lavorano molto a scuola e poco a casa. E questo è importante perché per il tessuto sociale che c'è in questo posto, molti non sono in grado di aiutare i propri figli, per cui il lavoro viene fatto a scuola. La comunità degli insegnanti e anche dei bidelli lavora con moltissimo entusiasmo e bene. Poi perché come genitore ho potuto vivere da vicino quella che è l'offerta formativa, che trovo eccellente. È così in quasi tutte le scuole di Bagheria. Però quello che ho notato qui è che mi piace, è che tutti i bambini, non c'è distinzione di nessun genere, sono trattati come dei principi. Per noi è ogni giorno l'open day qui, è come se fosse l'open day, perché per molte di noi è già il secondo anno di tirocini e con dispiacere, e diciamo che, come previsto dal regolamento, sarà l'ultimo anno, perché l'anno prossimo alcune di noi saranno costrette a cambiare scuola. Sin dal primo giorno dell'anno scorso ci siamo trovate benissimo. Abbiamo trovato una struttura funzionante sotto tutti i punti di vista, sia dal punto di vista architettonico, a livello di barriere, non ce ne sono... Di attrezzature di laboratorio. Di attrezzature di laboratorio. In ogni aula c'è una lim, che è la lavagna multimediale, e poi la palestra funzionante. Poi dobbiamo spendere assolutamente delle parole, non soltanto per le nostre coordinatrici di tirocinio, ma per tutte le maestre che ci hanno accolto man mano, sia nelle classi della scuola primaria che nelle sezioni dell'infanzia. Un'opera dedicata alle difficoltà quotidiane, ai disagi, che caratterizzano la vita dei portatori di handicap, le prese con città e ambienti urbani ostili e per nulla misura d'uomo. Si tratta del film Barriere architettoniche in famiglia del regista attore palermitano Paolo Brancati, che sarà proiettato domani alle 16 in occasione del 22esimo anniversario della fondazione e del centro di accoglienza Padre Nostro presso i locali del Teatro Brancaccio in via San Ciro 15 a Palermo. La UIL Pensionati Sicilia ha patrocinato il progetto insieme al Comune, all'Ordine degli Avvocati di Palermo, alle Acli, all'Associazione Mille Colori Onlus, al Centro Antiviolenza Lì a Pipitone e allo stesso Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni. Grazie.